Lorenzo Serafini arriva alla prima trasferta di questo campionato, si va a giocare a Pietralata contro il Casabarriera, una sfida difficile perché il Casabarriera nel primo turno ha pareggiato 2-2 sul campo della Valle del Tevere, una delle favorite per questo campionato, per cui è una gara difficile, vi attende? Sì, sicuramente, soprattutto poi a inizio stagione le gare sono tutte un po' complicate perché le squadre sono all'inizio quindi tendono sempre a voler dimostrare il loro valore. Noi veniamo da un esordio diciamo agrodolce, potevamo fare sicuramente meglio, soprattutto al secondo tempo sicuramente a livello fisico ancora non siamo al 100% però la squadra sta lavorando bene e sono convinto che insomma faremo una grossa partita domenica. Quanto manca per arrivare al 100%? Ma guarda, il discorso è che al di là dell'aspetto fisico c'è anche un discorso di amalgama generale perché siamo tutti ragazzi nuovi, almeno la maggior parte sono arrivati quest'anno quindi ci dobbiamo ancora trovare bene a livello di giocate, di tempistiche sul campo però ecco è da una mesata che stiamo lavorando anche su molto dal punto di vista tattico e sono sicuro che diciamo le giocate importanti arriveranno a breve. La prima mezz'ora del concilio però fa ben sperare perché avete fatto tanti tiri, mettevate il vantaggio e poi l'avete trovato a 41esimo. Guarda sì, sicuramente ecco la prima mezz'ora del concilione è in linea di massima la tipologia di squadra che siamo, una squadra che gioca palla a terra, una squadra che diciamo se esprime il suo gioco può mettere in difficoltà chiunque perché poi le individualità ci sono in questa squadra, perciò puntiamo appunto a fare quel tipo di gioco poi vuoi per il caldo, vuoi anche per le condizioni non ottimali del campo, vuoi per un sacco di cose ci siamo un po' allungati e quindi abbiamo perso un po' le distanze e le caratteristiche che ci contraddistinguono. Lorenzo, com'è per te questa esperienza al CIE che hai visto che tre anni fa hai dato non proprio una gioia con il gol sul rigore a 41esimo del plauta con Monteviascone. Qualcuno te l'ha ricordata questa cosa oppure no? Guarda, io ho sempre pensato che il Civitavecchio, sì me l'hanno ricordata, i tifosi, me l'hanno ricordata il direttore Smacchia. Diciamo che il Civitavecchio ho sempre pensato che sarebbe stato nel mio destino perché non solo tre anni fa con il gol al play-out ma anche l'anno scorso qui a Montalto con il Civitavecchio ho segnato con la CIE che c'è al 92esimo, un a zero, quindi ho sempre pensato che Civitavecchio sarebbe stato nel mio destino. Quindi quest'estate quando ho ricevuto la chiamata del direttore non ci abbiamo messo veramente poco per trovare l'accordo e per iniziare questa nuova avventura che sono molto entusiasta e spero di fare il meglio per questa città.